I panorami li vedete, le Dolomiti nella zona di San Martino di Castrozza, in un paradiso per chi ama la montagna e l'alta quota. È da qui che vi racconteremo una delle vertical race più suggestive e impegnative, la Rosetta Vertical Trail Run. La gara aggiunta alla sua terza edizione ha come teatro una delle vette del gruppo montuoso delle Palle di San Martino, ovvero Cima Rosetta a quota 2741. Ve la racconteremo in sintesi ovviamente la gara, guardate i panorami che passano ora sui vostri teleschermi, gentili telespettatori di Rai Sport, perché sono davvero suggestivi. Bentrovati da sottoscritto Gianfranco Benincasa e da Michela Cozzini qui al mio fianco per raccontarci e raccontarvi questa gara. Bentrovata Michela. Grazie, grazie. Allora dicevamo intanto i panorami che sono subito mozzafiato, no Michela? Sì esatto, infatti facendo questa gara si ha l'opportunità di salire fino alla cima del Rosetta e da una parte sembra anche di fare meno fatica perché si è sempre contornati da questo spettacolo e quindi a volte la fatica viene ripagata appunto dalla bellezza di questi posti. Qua intanto ci si prepara per la gara, questa è la linea di partenza, poi vedremo fa pochissimo la partenza, tu l'hai fatta anche questa gara in passato, non in questa edizione, molto dura? Sì, io ho avuto la fortuna di partecipare alla prima edizione e molto partecipata tra l'altro, sono sempre edizioni a cui partecipano molte persone e la partenza è proprio in paese, nel centro del paese. Di San Martino di Castrozza ovviamente. Esatto, è sempre una bellissima emozione, c'è sempre tantissima gente a fare il tifo. Questo è molto importante in solo le tre edizioni, infatti la gara vantaggia un interessante richiamo da parte di appassionati ed atleti, pur essendo uno sport di nicchia e non per tutti, la gara trentina ha proposto più di 250 partecipanti chiamati ad affrontare un percorso di 6,9 km con un dislivello di quasi 1300 metri, quindi non lunghissimo il percorso ma il dislivello fa la differenza. Sì, esatto, hai detto bene, è una gara abbastanza impegnativa sia per il dislivello che per la salita abbastanza tecnica e quindi diciamo che bisogna essere abbastanza preparati per affrontare il percorso, anche perché si arriva a una quota di 2007 che non è indifferente. Assolutamente, anche dal punto di vista della respirazione e dal punto di vista dell'altitudine. Partenza intanto della terza edizione della Rosetta Vertical Trail Run da San Martino di Castrozza a quota 1487 metri. Si sale subito, non c'è respiro qui. Esatto, a parte i primissimi metri in centro al paese, poi si sale subito lungo le piste da discesa. Che vediamo anche qui. Il primo tratto secondo me è quello un po' più impegnativo perché appunto si è ancora immersi nel bosco, non si ha ancora una visuale completa del panorama e la salita è abbastanza impegnativa. Tu dici Michela che è meglio quando hai la visuale senza gli alberi perché sai già dove vai a finire invece che essere nel bosco. Ma più che altro ti ripaga un po' il panorama che hai intorno. Oddio, non so quanto lo vedi se fai gara vera, eh? Assolutamente. Insomma, intanto diciamo anche che ci sono un po' di favoriti per questa gara. La fiemese Antonella Confortola, partiamo dalle donne visto che qui con noi c'è Michela. E poi ci sono anche Corina Ghirardi, ovviamente, che potrà dire la sua. Ilaria De Bertolis, fondista della Nazionale Italiana che per la prima volta affronta questa gara. Stefano Gardener, l'abbiamo visto, il primo erotto Bruno De Bertolis, Mirko Romanin, Gabriele Leonardi, Matteo Sostizzo. E poi ancora Galassi, Tiziano Moia, il mezzo fondista forte, il mezzo fondista friulano, Nicola Giovanelli. Insomma, tanti pretendenti al podio. Tantissimi anche coloro, intanto qui Antonella Confortola che ha vinto un bronzo olimpico, due medaglie mondiali. Insomma, un'atleta che è appena diventata mamma ma non molla mai. Poi vediamo quasi tutti, quasi tutti con i bastoncini perché poi là dietro ci sono anche alcuni atleti senza. Servono o non servono? È sempre la domanda che faccio perché non sono ancora convinto che servano fino in fondo. Che dici Michela? Ma è una questione molto personale. Dipende da gara a gara. Sicuramente nel primo pezzo di questa gara sono importanti. Più nel primo pezzo che nel secondo. Perché il secondo si fa un po' più corribile e quindi magari servono meno. Però, ripeto, è molto personale la scelta dei bastoncini. Molto personale, diceva Michela, dunque la scelta dei bastoncini. Qui una bellissima immagine che ci fa vedere la fatica degli atleti ma anche il panorama suggestivo in cui si sviluppa questa corsa. Qui l'immagine dall'alto con il drone che ci fa vedere appunto il passaggio del gruppo in uno dei tratti che poi forse si fa qui. Pianura ancora o falso piano ma poi saliamo veramente tanto. Sì esatto, diciamo che c'è un primo step al col verde all'arrivo della prima funivia e poi appunto inizia questo sentiero un po' più corribile, meno ripido, però sempre continuo. Qui Moreno Pesce intanto va un plauso a questo atleta Veneto che affronta sempre questa gara, lo abbiamo incrociato a tutte e tre le edizioni, viene perché i panorami sono suggestivi, viene perché vuole mettersi alla prova. Davvero un plauso per questo atleta paralimpico. Sì sicuramente sia per l'impegno sia per la costanza anche di affrontare questo tipo di gara perché davvero non è difficile. Moreno Pesce è nato a Noale nel veneziano, risiede da Uronza di Cadore e qui viene veramente spesso ad affrontare questo tipo di gara. Lo abbiamo incontrato anche in passato e davvero non è facile per lui ma è anche in qualche modo un esempio. Qui vediamo altri passaggi intanto per quanto riguarda questa rosetta, altri passaggi che ci fanno vedere uno dei tratti forse più suggestivi di questa gara che comunque regala davvero scorci e panorami incredibili, si passa dall'ombra al sole, anche qui insomma c'è un osbalzo perché ovviamente bisogna stare attenti si corre anche su questi sentieri che possono nascondere e riservare, Michele, anche delle insidie. Sì bisogna sempre stare molto attenti soprattutto nella parte finale anche perché c'è sempre il rischio che nevichi molto presto e quindi che ci sia qualche residuo di ghiaccio sulla roccia quindi bisogna sempre stare molto attenti. Non è caso di questa edizione che è andata in scena davvero con un sole incredibile, davvero fortunati gli organizzatori per quanto riguarda questa gara perché la settimana prima anche a quote basse aveva nevicato invece guardate davvero il panorama, questo sentiero che si arrampica lo avete visto con delle immagini davvero molto molto suggestivi. Qui si sale, dove siamo? Nella zona di Cima Corona? Esatto, sì. Si continua a salire, è sempre molto costante il sentiero, di fatti vediamo che anche gli atleti non hanno problemi a correre, a mantenere un bel ritmo costante. Intanto in testa c'è Stefano Gardener che è un ex fondista e non lo dico a caso perché Michela è anche maestra di sci proprio per quanto riguarda il fondo, organizza anche i corsi per quanto riguarda questo sport particolare molto appassionante seguito da Tiziano Moia che dicevamo forte mezzo fondista friulano ma Gardener sta tenendo davvero molto molto bene. Sono sport che si sposano in qualche modo, fondo e corsa perché sono sport di resistenza. Sì esatto, sono sempre tanti i fondisti che appunto l'estate si dedicano alla corsa o alla corsa in montagna perché sono due discipline che si coniugano molto bene e l'una serve all'altra per allenarsi. E questo è molto importante anche come preparazione appunto in vista dell'inverno, intanto Stefano Gardener davanti, Tiziano Moia dietro, i due hanno fatto il vuoto, sono loro a questo punto a giocarsi la vittoria di questa terza edizione della Rosetta Vertical Trail Run. Guardate, è davvero suggestivo il passaggio, i passaggi degli atleti mentre si fa sempre più su, mentre si fa sempre più fatica e mentre anche si sale di quota e quindi la fatica aumenta anche per quanto riguarda la respirazione Michela. Esatto, esatto perché pur essendo un sentiero sempre costante però si sale di quota e quindi ci vuole una bella preparazione appunto perché si arriva quasi a quota 3.000 e non è indifferente. E non è per niente indifferente, non è indifferente neanche per gli organizzatori fare, realizzare il tracciato perché c'è bisogno di stare attenti dove si va, c'è bisogno di avere i volontari che danno una mano e vanno a segnalare. Intanto, come dicevamo, si continua a salire, la coppia di testa sta transitando nei pressi del pilone della Funivia Rosetta, il dislivello maggiore è stato affrontato ma c'è la fatica come valore aggiunto davvero in questa gara. Abbiamo detto allora Stefano Gardener davanti, Tiziano Moia dietro per quanto riguarda la gara, poi Tarciso Linardi che è anche un under 50 che si sta comportando davvero molto molto bene perché qui ci sono gli atleti che corrono per vincere, poi ci sono gli atleti, intanto qui Antonella Confortola che guida la gara al femminile, ci sono dicevamo gli atleti che corrono per vincere, ci sono anche gli atleti che sono qui solo per dire c'ero, ho partecipato e in questo caso come abbiamo visto prima Tarciso Linardi, under 50, se la sta cavando davvero molto molto bene. Esatto, confermo quanto hai detto e in questo tipo di sport, soprattutto nei vertical, non conta tanto l'età ma conta quasi di più l'esperienza, quindi nel sapersi gestire, nel conoscere se stessi e quindi magari vediamo vincere persone che magari hanno qualche anno in più rispetto a quelli che normalmente vincono le gare. E questa è la seconda della gara femminile, Corinna Ghirardi in testa alla corsa femminile, c'è sempre da sola, Antonella Confortola, straordinaria la sua prova oggi che sta dimostrando talento da vendere, tanta grinta, si sta tra l'altro mettendo alle spalle anche tanti maschietti, lei ha vinto tante gare anche di corsa in montagna, parlavamo prima dei risultati del fondo, ma ricordiamo che è stata bronza il campionato europeo nel 2003 a Trento, un argento l'anno prima di Innsbruck, un titolo mondiale nella lunga distanza nel 2013, un argento nel 2016, davvero un atleta che ha saputo dare il meglio sia sugli scistretti sia nella corsa in montagna, Antonella Confortola. Esatto, è una grandissima atleta e dice ancora la sua in questo tipo di gare e riesce sempre a cogliere dei risultati brillanti. Lei che è sposata con Wyatt, che è anche il presidente della federazione internazionale di corsa in montagna, che però oggi è come dire stato costretto ai box, visto che raccontiamo questo piccolo particolare, i coniugi si sono dimenticati, gli omogenizzati per la piccola Denise che è nata pochi mesi fa e quindi Wyatt è a San Martino di Castrozza a recuperare cibo per la figlia, mentre Antonella Confortola sta facendo la gara, la corsa in montagna è anche questo. E anche questi animali che si incontrano, queste capri e pecore che si incontrano sul tracciato, qui ancora intanto Moreno Pesce che continua a salire in quota con le sue stampelle e con la sua protesi in titanio e per lui è davvero una prova da sottolineare, da applausi. Sì, davvero strabiliante, veramente sia per l'impegno che per la gioia che trasmette sempre a tutti e ha sempre un sorriso per tutti sia all'arrivo che durante il percorso. Davvero molto importante, siamo ora sull'alto piano delle palle di San Martino, potete ammirare anche la meraviglia di questo paesaggio che si può raggiungere anche prendendo la funivia Rosetta, è un luogo incantato, sullo sfondo vedete anche il rifugio Rosetta per quanto riguarda la zona e qui vediamo anche un po' di pubblico, pubblico che tra l'altro poteva salire questa mattina con la funivia a seguire questa prova, anche questo importante per quanto riguarda l'organizzazione di questa giornata e valeva anche la pena perché era una splendida giornata di sole, quindi oltre che seguire la gara si poteva anche ammirare quello che era il paesaggio da quassù, che non è poca cosa perché in giornate come queste si può vedere anche la laguna di Venezia da qui. Sì esatto, qui si arriva in cima a questo altipiano delle pale, sembra finita ma in realtà c'è ancora l'ultimo pezzettino da affrontare, sembra finita, però c'è ancora da stringere i denti e tenere duro perché l'arrivo è proprio alla cima dove c'è la croce. Allora in testa c'è sempre Stefano Gardener seguito da Tiziano Moia che non riesce però a ridurre il gap fra i due ci sono sempre una quindicina di secondi e poi arriva anche il terzo per quanto riguarda questa gara terza piazza per il Trentino della Val di Non Gabriele Leonardi, lo vedete con il completo di gara giallo è riuscito nel frattempo lui a superare Matteo Sostizzo e quindi si è portato momentaneamente almeno in zona podio quindi Stefano Gardener, Tiziano Moia e poi Gabriele Leonardi che come dicevamo ha superato Matteo Sostizzo che transita in quarta posizione e quindi lui ha perso almeno per il momento il podio vedremo se riuscirà poi a finire effettivamente così anche l'atleta di casa Bruno Rebertolis finanziere che ora si dedica alle lunghe distanze con gli sci di fondo e si sta rendendo autore di una prestazione davvero autorevole transita infatti in decima posizione dietro di lui Enrico Stagliotto e poi via via tanti altri atleti e qui si apre anche il panorama no Michela? Esatto qui è un posto bellissimo sia per i trekking che per le arrampicate in montagna Qui intanto ancora la testa della corsa femminile sempre davanti a tutti Antonella Confortola grande ritorno alle competizioni il suo sulle tanto amate montagne davvero ancora tanta adrenalina per quanto riguarda lo sport per la Confortola più staccata Corinna Ghirardi sempre seconda ed ora nel tratto che porta alla stazione a monte della Funivia Rosetta e poi con il numero 6 ottima prova anche per l'atleta di casa Ilaria Rebertolis seguita con un fido scudiero da Gian Antonio Zanetel abbiamo visto una Ilaria Rebertolis che a proposito di fondo ha il motore giusto per affrontare una gara di questo tipo insomma anche se è la prima volta che partecipa ad una prova del genere Sì direi proprio di sì che il motore non le manca va forte con gli sci e abbiamo visto insomma che riesce ad affrontare molto bene anche questo tipo di gara Ultimi sforzi per Antonella Confortola lanciata verso la sua prima vittoria la Rosetta Vertical Try Run ma attenzione al tempo che è decisamente interessante in chiave record di gara guardate il suo ritmo visto così sui teleschermi gentili telespettatori sembra veramente una passeggiata di salute ma vi assicuriamo che le pendenze sono davvero impegnative la prospettiva è sempre un po' appiattita e davvero la fatica è tanta tantissima Michela No esatto le immagini non rendono però qui si fa veramente fatica un po' perché siamo Corinna Ghirardi intanto un po' perché siamo alla fine però c'è ancora un bel pezzo da fare e la pendenza anche non è indifferente E qui la vediamo infatti anche un po' più affaticata Corinna Ghirardi del resto ha avuto una stagione molto piena per lei anche tanti impegni come lo sci alpinismo si è dedicata anche per tutta l'estate alla corsa in montagna quasi senza soste dunque qui siamo già a fine settembre e insomma dopo tutta la stagione la fatica si fa anche sentire Confortola davanti allora questa invece Corinna Ghirardi che è seconda in questa rosetta verticale in questa prova nella zona del Primiero siamo in Trentino e questo è davvero molto importante per lei comunque riuscire a rimanere seconda con solida anche la terza piazza con la maglia rossa Anna Pircher che però anche lei è un po' affaticata e poi ancora transita sopra la funivia a Rosetta anche Ilaria De Bertoli, buona prestazione la sua in questa prima partecipazione è quarta in classifica momentanea e ancora Moreno, Moreno pesce davvero difficile però come dicevi tu Michela sempre con il sorriso e questo è davvero un bel insegnamento Sì esatto e poi è molto bella questa gara perché c'è sempre tanta gente lungo tutto il percorso e quindi in qualche modo c'è sostegno da parte di tutto il pubblico E questo è anche bello assolutamente intanto qui siamo anche praticamente nella zona d'arrivo a quota 2766 di cima a Rosetta e vedremo chi andrà a vincere davanti intanto per quanto riguarda la gara maschile c'è sempre Stefano Gardener a comandare ma Tiziano Moia tenta ora il tutto per tutto, il distacco si sta riducendo ma manca davvero poco ormai al traguardo, manca un paio di curve e poi c'è solo quella parte finale che porterà sul traguardo Stefano Gardener ormai è davanti, difficilmente Tiziano Moia riuscirà a rientrare e qui siamo proprio nella zona che porta sul traguardo guardate il panorama, sotto ci sono le nubi, sopra c'è il sole, il cielo azzurro e davvero siamo nella cuore di quelle che sono le Dolomiti patrimonio dell'umanità Stefano Gardener a comandare ancora con Tiziano Moia che è rimasto lì praticamente per tutta la gara incredibile, non è riuscito a perdere un metro, non è riuscito a guadagnare un metro è andata così Esatto, ma è anche bello avere un punto di riferimento perché se riesci a mantenere quel punto di riferimento rimani lì e poi non sempre si riesce a raggiungere quello che hai davanti però va bene così Sembra sempre che sia possibile arrivare lì sotto al battistrada poi alla fine però non ci si riesce e questo che è successo a Tiziano Moia Stefano Gardener ha guidato sempre senza problemi ancora un buon ritmo quello dell'ex fondista che si è presentato qui a questa terza edizione della Rosetta Verticale proprio per portarsi a casa la vittoria e ora sta arrivando, siamo davvero agli ultimissimi metri se così possiamo dire anche se sembra ancora lunghissima da questa prospettiva ma ormai siamo sul traguardo di questa terza edizione della gara primierotta siamo in Trentino, siamo alle ultime gare per quanto riguarda le Verticale Skyrun per quanto riguarda questa stagione ed eccolo Stefano Gardener ce la fa e arriva sul traguardo con clou della sua fatica dopo 6,9 km con 1.279 metri di dislivello prestazione di tutto rispetto 53 minuti e 9 secondi di soli 47 secondi superiore al record fatto registrare un anno fa da Davide Magnini seconda posizione ed ora li vedete si scambiano opinioni Tiziano Moia che è giunto sul traguardo con 12 secondi di ritardo e poi arriva Gabriele Leonardi con 2 minuti e 17 secondi dal vincitore quarta posizione e secondo Under 23 Vicentino Matteo Sostizio questo è il podio della terza Rosetta Verticale per quanto riguarda i ragazzi per quanto riguarda gli uomini Tarcisio Linardi che abbiamo visto già prima transita in ottava posizione assoluta sul traguardo ma attenzione al traguardo anche la prima ladies si tratta di Antonella Confortola chiude con un tempo di 1 ora 7 minuti e 21 secondi ed è record di ben un minuto e 28 secondi inferiore rispetto a quello che fece registrare nel 2017 la bellunese Cecilia De Filippo seconda donna Corina Ghirardi che fa registrare il tempo di 1 ora 10 minuti e 41 secondi e questa invece Anna Pircher che sta anche lei arrivando sul traguardo la smorfia, la fatica per quanto riguarda Anna Pircher tempo di 1 ora 11 minuti e 41 secondi il podio femminile per quanto riguarda questa gara dunque Confortola Ghirardi Pircher qui ancora tanti atleti che stanno affrontando la gara che arriveranno dopo i primissimi per noi le interviste ai protagonisti sentiamo che cosa ci hanno detto la giornata indubbiamente era bellissima infatti gli organizzatori hanno svolto un lavoro perfetto per noi corridori per salire fino in cima alla Rosetta e anche per me è andata più che bene la gara anche come tempi di giornata non pensavo di poter arrivare magari così vicino anche se sono 50 secondi però comunque Magnini non è l'ultimo arrivato qui ma sì io non avendola mai né provata né fatta sono partito con un buon ritmo fino al primo troncone della funivia dove Tiziano ha un attimo molato e io ho continuato cercando di tenere duro e arrivare fino alla fine con sempre questo buon ritmo e di fatti siamo arrivati appaiati a una quindicina scarsa ai secondi sì oggi ero un po' stanco soprattutto di testa per gli ultimi impegni importanti perché il trenino per andare su forte c'era non l'ho sfruttato del tutto ma comunque è stata una bellissima gara oggi è una bellissima giornata ed è andata bene infatti ci sono anche le condizioni ideali probabilmente per correre e sono contenta di essere finalmente riuscita a partecipare il posto è bellissimo e infatti si fatica un po' ad arrivare in cima però lassù è davvero bello e ne vale la pena è un po' una sorpresa anche per me io sto dopo la nascita di Doro ti sto abbastanza bene ho un problemino al tendine che mi limita un po' quindi non pensavo di riuscire ad andare così però la passione è rimasta e quindi quando posso almeno i vertical li faccio e oggi ci tenevo ad esserci allora secondo posto sono comunque soddisfatta anche se ho fatto praticamente ho messo un minuto in più dell'anno scorso però oggi non era proprio la giornata top però contenta sì sì la rosetta è sempre bella lo spettacolo qua è magnifico poi la giornata è una giornata super quindi sì contenta sì la meglio edizione delle tre il tempo è stato fantastico e abbiamo avuto un aumento di partecipanti siamo felicissimi come comitato e speriamo di aumentare ancora abbiamo avuto 60 volontari sul percorso alle cucine e quindi per soddisfare al meglio i 230 atleti che hanno partecipato oggi ci piacerebbe avere una gara importante magari a livello internazionale quello sì queste dunque le parole dei protagonisti di questa terza edizione della rosetta verticale e qui siamo al Palasport per quanto riguarda le premiazioni Stefano Gardener allora al maschile ha vinto la terza edizione al femminile la vedete qui Antonella Confortola mamma da poco ma sempre protagonista sempre sul podio in ogni manifestazione per quanto riguarda Confortola grande sorriso assolutamente Corina Ghirardi poi la Pircher poi l'aria de Bertolis e via via tutte le altre andremo poi a vedere anche le classifiche più nel dettaglio intanto un grazie a Michela Cozzini che è stata qui al mio fianco per raccontarvi questa rosetta verticale 2019 grazie davvero grazie a te per l'ospitalità e arrivederci alla prossima edizione prossima edizione vi aspettiamo sempre a settembre 2020 manca ancora tanto ma gli organizzatori come sempre sono al lavoro qui intanto il podio al maschile grande prova di Stefano Gardener che si porta a casa questa rosetta edizione 2019 anche questo premio piuttosto pesante ma davvero molto bello Stefano Gardener 53-09 Tiziano Moia 53-22 Gabriele Leonardi 55-26 poi Sostizio 57-netti e Hofer 57-29 questa è la classifica al maschile al femminile Antonella Confortola 1 ora 07-21 nuovo record della gara Corina Ghirardi 1-10-41 Anna Pircher Ilaria de Bertolis 1-12-25 Elisa Pallini 1-13-15 è davvero tutto gentili telespettatori di Rai Sport rimanete con i nostri programmi a risentirci arrivederci